Per redigere e leggere correttamente un bilancio occorre svolgere approfondimenti su più profili, le norme, i principi contabili, la prassi di riferimento, i principi di revisione, le soluzioni applicative nel tempo elaborate. Dall'altro lato occorre approfondire anche i profili giuridici, gli orientamenti della giurisprudenza, quando un bilancio può essere oggetto di impugnazione, quando si configura il falso in bilancio, quando e come l'informativa di bilancio determina degli obblighi di allerta da parte degli organismi societari, come il bilancio è letto nel rapporto banca-impresa e ai fini della determinazione del rating dell'azienda. Occorre dunque una visione ampia ed interdisciplinare.